Semifinale finalissima del torneo di tennis Maglio Moriconi si terranno nella splendida location del club nautico di Gela, si contenderanno il prestigioso trofeo giunto alla sesta edizione i migliori tennisti siciliani. La finale è prevista per domenica 14 agosto alle 17. I risultati sono molto lusinchieri, la chicca è sempre rappresentata dalla presenza dei giocatori delle racchette più rappresentative siciliane, quindi giocatori atleticamente più preparati, appartenenti ai circoli tennistici più prestigiosi della Sicilia. Questa è chiaramente l'imbronda, la valenza che ha in più rispetto agli altri tornei questo Memorial. Quest'anno il nostro Memorial assume una particolare valenza perché è venuto a mancare qualche mese fa il patron, per così dire, del tennis gelese e siciliano, Roberto Romagnoli. Era un nostro punto di riferimento, è stato un punto di riferimento per tutti i tennisti siciliani, in quanto era anche vicepresidente del Comitato Regionale Siciliano, oltre tesoriere, e curava il settore giovanile del tennis siciliano che ha avuto così tanti successi. Mi proverò a giocare una bella partita, oggi soprattutto, e poi man mano, semifinale e finale, via dicendo. Ci sono tutte persone comunque che conosco da una vita, oramai siamo sempre gli stessi siciliani, quindi ci incontriamo sempre le stesse persone, però in diversi tornei, sia in terra sia in duro. Sono tre o quattro giorni che sono qua e quindi spero di dare il massimo, di non perdere subito. L'evento sponsorizzato da alcune aziende locali è gratuito e pubblico. Tutti gli appassionati possono partecipare alla manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama tennistico regionale. Il torneo è un modo per, diciamo, contribuire a tenere vivo il ricordo di mio padre, che era un grande appassionato di questo sport e possiamo dire che, in un certo senso, ha contribuito alla diffusione del tennis anche all'interno del nostro club. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di fare ogni anno sempre meglio e migliorare sia a livello organizzativo che anche di monte premi.